Una leva strategica sul fronte dell'inclusione volano per la crescita economica e sociale della comunità. Sono le imprese in rosa, oltre 2.800, quelle presenti in provincia di Belluno, secondo i dati dell'ente camerale, pari al 21% sul totale delle sedi attive. Quota è questo, è il dato positivo, che si mantiene stabile nell'ultimo quinquennio 2018-2023. È un valore aggiunto, c'è bisogno dell'imprenditoria femminile, io l'ho sempre valorizzata. Promuovere e valorizzare il ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale, questo il cuore, la mission dell'apposito comitato imprenditoria femminile, operativo all'interno della Camera di Commercio. C'è tutta una rete che è a disposizione di chi vuole avere informazioni, di chi vuole proporre per far sì che l'imprenditoria femminile sia sempre più valorizzata. Benessere della persona, sistema moda, ma anche commercio al dettaglio, sono i settori dove è maggiore la quota di imprese femminili, 8.000 circa gli addetti coinvolti. Io credo che la donna sia portatrice, costruttrice proprio di nuovi modelli, proprio perché attraverso il suo femminile, quindi le caratteristiche che la contraddistinguono proprio come donna, le permettono una maggiore capacità di inclusione, una maggiore capacità di ascolto, anche una maggiore capacità di mediazione. A portare la propria testimonianza le vincitrici del premio per l'imprenditoria femminile 2023, promosso dal medesimo comitato, come la cioccolateria sociale Nina Cacao e l'azienda apistica La Casa di Maia. Per noi fare imprenditoria al femminile significa appunto creare opportunità per le donne, creare dei percorsi di empowerment affinché tutte le donne possano avere delle possibilità di essere inserite all'interno del mercato del lavoro in modo dignitoso. La donna ha in sé dei grandi valori, quando li riesci a esprimere, che sia nella professione, che sia nella propria impresa, che sia nella famiglia, la donna si sente realizzata. Io nella mia impresa trovo l'espressione dei miei valori e questo mi rende gratificata e piena di gioia.